Due presunti scafisti, rispettivamente di nazionalità siriana ed egiziana, sono stati individuati e fermati dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone. I provvedimenti eseguiti al termine di una serie di operazioni, avviate nell'ambito del dispositivo integrato degli assetti aerei e navali della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Europea Frontex e dell'operazione Temis 2022, avevano segnalato in rotta di avvicinamento all'Italia alcune barche a vela stipate di migranti dirette verso le coste calabresi. Nel corso delle operazioni, i militari hanno individuato un'imbarcazione con 110 persone a bordo, avvicinata da un pattugliatore del gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto, che all'ingresso delle acque territoriali italiane ha proceduto all'abordaggio prendendone il controllo e scatolandola fino al porto di Crotone. In contemporanea, un guardacoste della Guardia di Finanza della città pitagorica, in cooperazione con la motovedetta CP321 della Capitaneria di Porto e di un pattugliatore romeno dell'Agenzia Frontex, hanno intercettato un'altra barca a vela precedentemente avvistata dagli assetti aerei. I finanzieri, dopo aver tenuto sotto stretto controllo l'imbarcazione con circa 90 persone, tra afghani ed egiziani, sono saliti a bordo e l'hanno scortata fino al porto crotonese. Altri 75 migranti di nazionalità siriana ed afghana, tra cui 30 minori, sono stati avvistati dagli assetti navali Frontex su uno slope di 14 metri, poi abbordato da un guardacoste del gruppo aeronavale della guardia di finanza di Messina.